Il gruppo di lavoro a cui ho partecipato oggi si preoccupava della cronicità. Un paziente cronico fa una domanda al Servizio Sanitario Nazionale come curo la mia patologia, chi mi assiste, come devo fare? Ecco, in questo gruppo di lavoro abbiamo cercato di dare le risposte a queste domande partendo da un concetto di base che è la fiducia dell'utente, del paziente verso il Servizio Sanitario Nazionale. Fiducia che si crea attraverso dei meccanismi che prendano in carico il paziente frase già molto usato ma che noi oggi abbiamo declinato utilizzando le nuove frontiere digitali ovvero utilizzando tutti quei meccanismi informatici di telemedicina che consentono davvero di assistere il paziente a casa propria offrendogli in realtà un panorama molto più ampio di cure perché la presa in carico deve essere multidisciplinare e non solo del singolo specialista o del medico di medicina generale ma anche del fisioterapista, dello psicologo insomma di tutte quelle prestazioni sanitarie di cui il paziente cronico ha bisogno e che troverà, secondo il modello che abbiamo cominciato a studiare oggi, troverà in una risposta univoca attraverso dei meccanismi di telemedicina. questo insieme di prestazioni e questa presa in carico del paziente cronico.